Auguri a tutti di Buon Natale, amici! Ecco qua, oggi si mangia l'agnello. L'ho condito adesso, adesso. Lo smarino, un po' d'aglio, sale e pepe. E olio. Quanto basta. Poi adesso va in forno. Ma non adesso, perché adesso ci sono a cuocere le lasagne. Si sta cuocendo a 180 gradi per una quaranticinquina di minuti. Ciao, Buon Natale a tutti. Si, l'innovato. Anche se stagione. Moro. Non è un po' diettrò.